Può sembrare riverente e qualcuno avvertirà perfino odore di sacrilegio. Non saprei bene se per l'impressione di vedere un appellativo così povero attribuito alla regina degli angeli e dei santi o per la scarsa considerazione verso la categoria di coloro che si guadagnano il pane faticando in casa d'altri. A dire il vero anche il costume moderno ha ravvisato qualcosa di avvilente nel linguaggio antico, sicché invece che parlare di serva o persona di servizio il vocabolario passando attraverso la trafila lessicale di domestica o cameriera si trastulla con termini più alla moda e parla di lavoranti alla pari o addirittura di colf che poi non è altro che una sigla furbesca ricavata dall'iniziale di collaboratrice familiare. Eppure quell'appellativo Maria se l'è scelto da sola per ben due volte infatti nel Vangelo di Luca lei si autodefinisce serva la prima volta quando rispondendo all'angelo gli offre il suo biglietto di visita eccomi sono la serva del Signore la seconda quando nel Magnificat afferma che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, donna di servizio dunque a pieno titolo, un titolo che lei si porta incorporato per diritto di nascita e al quale sembra gelosamente tenerci come a un antico blasone nobiliare. Era o non era, se non proprio discendente come Giuseppe, almeno coinvolta con la casa di Davide suo servo, un titolo che per una specie di simmetria speculare le fa riconoscere a colpo sicuro una pari qualifica professionale nel vecchio Simeone e la induce a consegnare il bambino Gesù nelle braccia di quel servo che ora può finalmente andarsene in pace. Un titolo che durante il banchetto di Cana, visto che tra colleghi ci si intenda meglio, l'autorizza rivolgersi ai servi con quelle parole che essendo rimaste un esigente consegna anche per noi, sembrano un invito ad andarci a iscrivere tutti allo stesso sindacato. Fate quello che vi dirà. Un titolo, insomma, che legittimerebbe la richiesta delle competenti organizzazioni per avere la Vergine Santa come protettrice di coloro che, pur con diversità di prestazioni, dalla governante alla babysitter, dalla nurse alla fantesca, con livrea o senza livrea, esprimono dei servizi alle dipendenze di una famiglia. Eppure quell'appellativo così autoreferenziato non trova posto nelle litanie lauretane. Forse perché anche nella Chiesa, nonostante il gran parlare che se ne fa, l'idea del servizio evoca spettri di soggezione, allude a declassamenti di dignità e sottindente cali di rango che sembrano incompatibili col prestigio della Madre di Dio. La qualcosa fa sospettare che perfino la diaconia della Vergine sia rimasta un concetto ornamentale che intride i nostri sospiri e non un principio operativo che innerva la nostra esistenza. Santa Maria, serva del Signore, che ti sei consegnata anima e corpo a Lui e hai fatto l'ingresso nel suo casato come collaboratrice familiare della sua opera di salvezza, donna veramente alla pari, che la grazia ha introdotto nell'intimità trinitaria e ha reso scrigno delle confidenze divine, domestica del Regno che ha interpretato il servizio non come riduzione di libertà, ma come appartenenza irreversibile alla stirpe di Dio. Noi ti chiediamo di ammetterci alla scuola di quel diaconato permanente di cui ci sei stata impareggiabile maestra. Al contrario di te facciamo fatica a metterci alle dipendenze di Dio e stentiamo a capire che solo la resa incondizionata alla sua sovranità ci può fornire l'alfabeto primordiale per la lettura di ogni altro umano servizio. L'affido nelle mani del Signore ci sembra un gioco d'azzardo, la sottomissione a Lui invece che collocarla in un quadro di alleanza bilaterale la sentiamo come una variabile della schiavitù. Siamo gelosi, insomma, della nostra autonomia e l'affermazione solenne che servire Dio significa regnare non ci persuade più di tanto. Santa Maria, serva della parola, serva a tal punto che oltre ad ascoltarla e custodirla, l'hai accolta, incarnata nel Cristo. Aiutaci a mettere Gesù al centro della nostra vita. Fa che ne sperimentiamo le suggestioni segrete. Dacci una mano perché sappiamo essergli fedeli fino in fondo. Donaci la beatitudine di quei servi che egli, tornando nel cuore della notte, troverà ancora svegli e che dopo essersi cinte le vesti, Lui stesso farà mettere a tavola e passerà a servire. Fa che il Vangelo diventi la norma ispiratrice di ogni nostra scelta quotidiana. Preservaci dalla tentazione di praticare sconti sulle sue esigente richieste. Rendici capaci di obbedienze gaudiose e metti finalmente le ali ai nostri piedi perché alla parola possiamo rendere il servizio missionario dell'annuncio fino agli estremi confini della terra. Santa Maria, serva del mondo, che subito dopo esserti dichiarata ancella di Dio, si è corsa a farti ancella di Elisabetta, conferisci ai nostri passi la fretta premurosa con cui tu raggiungessi la città di Giuda, simbolo di quel mondo di fronte al quale la Chiesa è chiamata accingersi il grembiule. Restituisci cadenze di gratuità al nostro servizio, così spesso contaminato dalle scorie dell'asservimento e fa che le ombre del potere non si allunghino mai sui nostri offertori. Tu, che hai sperimentato le tribolazioni dei poveri, aiutaci a mettere a loro disposizione la nostra vita con i gesti discreti del silenzio e non con gli spot pubblicitari del protagonismo. Rendici consapevoli che sotto le mentite spoglie degli affaticati e degli oppressi si nasconde il re. Apre il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli e perché possiamo essere pronti a intuirne le necessità, donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza, gli occhi che avesti tu quel giorno a cana di Galilea.